Siamo pronti per incominciare. Buonasera a tutti, benvenuti. Siccome oggi è la festa di Sant'Antonio è arrivato. Auguri a tutti di Antonio, Antonino, Antonina, Sanina, Antoniette, Antoniette. Va bene? Grazie a tutti. 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 Vincendo tranquillo e sereno, anche i colori sanno parlare, basta solo sapere ascoltare. Grazie a tutti. 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 quelli di bambini Giordano potete raffrontire potete raffrontire potete volare questi vedete la terra e l'amora aia aia bene 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 Grazie. Voi avete tutte le marine? Allora, signorine, fate un passetto indietro, fate un passo indietro, quindi sono scusate, sono primo mamma mia. Se vi deve ammesso, in una, in una di un'altra 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 di un'altra. Elisa, ecco. Grazie a tutti! Grazie a tutti!